Carlo Derisio, nativo di Vasto ma di Montenegro di Bisaccia, quindi molisano, però ti avvicini a casa dopo questa trattativa che in questa seduta è stata abbastanza rapida. Sì, sono molto contento di essere qui perché Pescara penso sia una grandissima società, una grandissima piazza e a maggior ragione che sto vicino a casa, quindi sono molto contento. Valenti ti ha voluto fortemente a Uteri, ti ha allenato a Martina Franca già nel 2014, poi lo hai ritrovato anche a Catanzaro per due anni, l'hai ritrovato a Bari, come lo hai ritrovato a Pescara? Credo che il mister sia sempre uguale, l'ho avuto per quattro anni, ha le sue idee, è un gioco molto aggressivo, cerca sempre di proporre il suo gioco, quindi diciamo che il mister è sempre così, non cambia mai. Trovi anche Eugenio Dursi con cui hai giocato già a Bari e a Catanzaro, solo un gol, ti sembra un po' strano? Sicuramente penso che per un attaccante ci siano vari momenti della stagione, magari il girone di ritorno farà benissimo, sono convinto che farà benissimo perché si allena sempre bene e so quanto ci tiene a fare bene. Parliamo di te, la tua carriera che è decollata in Abruzzo con quella stagione a Celano, poi tanta esperienza, tante squadre anche di Blasone, di Prestigio, Bari, Avellino, Padova, Catanzaro. Che giocatore sei? Perché secondo te Auteri ti stima così tanto? Cosa porti in campo? Penso che sono un giocatore che dà tutto quello che ha per la squadra, cerco di aiutare in fase di non possesso, di proporre il gioco in fase di possesso. Col mister mi trovo bene, sono quattro anni che mi allena, quindi nulla, sono contento. A livello di trattativa, il tuo arrivo, insomma, se ne parlava già da quest'estate, si pensava si potesse fare, poi così non è stato. A Bari sei stato fuori lista, poi sei rientrato, hai giocato poco. Perché non si è fatto questo matrimonio, se è possibile, già in estate? Penso che non si sia fatto per varie dinamiche che ora non sto qui ad elencare, però appunto sono contento di essere qui, voglio recuperare tutto il tempo che ho perso nel girone d'andata, quindi non vedo l'ora di iniziare a giocare. Che gruppo hai trovato? Ho trovato un bel gruppo, un gruppo di ragazzi giovani che lavorano bene, quindi veramente una bella atmosfera, speriamo di fare il meglio possibile. C'è, non un'emergenza, ma anche a Pompetti che è stato il titolare nel ruolo abbastanza inamovibile nella prima parte della stagione, è squalificato. Tu sei fresco di arrivo, però potresti scendere subito in campo, hai questa sensazione perlomeno? No, ad oggi non so se giocherò o meno, ripeto, se giocherò cercherò di farmi trovare pronto. Un pescara che non può puntare al primo posto, ma può puntare a un piazzamento importante play-off. Tu che li conosci questi play-off, come ci si arriva e come li si può disputare in maniera competitiva? Sicuramente il pescara deve ambire sempre qualcosa di importante e penso che ai play-off può dire sicuramente la sua. Penso però che prima di pensare ai play-off dobbiamo pensare partita dopo partita per arrivare ai play-off come una squadra organizzata e che fa le cose fatte bene. Presto ovviamente per parlare di futuro, tu sei arrivato in prestito secco, però per il futuro c'è un punto di domanda? Per il futuro non lo so, ripeto, mi godo questa esperienza, cercherò di dare il massimo e poi a giugno si vedrà.